E' uno degli uffici che organizza, è promotore ed organizza la Festa dei Popoli di Salerno. Quest'anno siamo all'undicesima edizione e ogni anno la festa ha un tema, quest'anno sarà l'arte, quindi uniti nell'arte. Le varie comunità rappresenteranno sul palco e all'interno degli stand quelle che sono le tradizioni delle arti più diffuse nel loro paese. Quindi ci saranno le comunità che mostreranno le varie pitture oppure sculture, ci saranno anche degli artisti che realizzeranno delle opere lì direttamente in piazza. E quindi saremo tutti coinvolti in questo grande gioco della Festa dei Popoli. Vi aspettiamo in piazza domenica alle 17.30, domenica 9 giugno a Piazza della Concordia. Quest'anno, il 9 giugno, vivremo di nuovo in piazza questo evento, la Festa dei Popoli, in cui le comunità di migranti presenti sul nostro territorio si racconteranno. Il tema di quest'anno è l'arte dal mondo, quindi racconteranno arte e artigianato dei loro paesi. Ma c'è una frase particolarmente che ci accompagnerà, che è uniti nella diversità, che rappresenta lo stile con cui vogliamo vivere e lo stile che auspichiamo per la nostra società. Consapevoli che siamo diversi, ma per religione, fede, provenienza, ma anche somaticamente, ma sicuramente siamo uniti nei valori dell'accoglienza, nell'interazione e del camminare insieme per una società positiva, che va di accogliere la bellezza delle persone e trascurri razzismo, integralismo e separatismo. Grazie.